Salve, sono Gino Galia, fratello di Franco. Provo a parlare di lui, della sua vita, un pochino tragica nel suo finire. Franco, come io, siamo nati da una famiglia di contadini, famiglia numerosa, umile, con tanti valori. Lui era l'ultimo della famiglia, era l'ultimo della famiglia. Quando è nato, è nato questo bambino, i capelli rossi e un angioletto, un angioletto della famiglia. Tutte e due eravamo coetanei, ci togliamo tre anni. Abbiamo vissuto tutta l'infante insieme, che poi è continuata quando siamo adulti. Il suo amore per il UEF nasce quando frequentava l'istituto tecnico. Lui frequentava l'istituto tecnico e sentiva quel bisogno, bisogno di un territorio ammalorato, un territorio che si stava perdendo, di fare qualche cosa. Così decise di rivolgersi a qualcuno, con i compagni di scuola, colleghi, e fino a quando non trovò una via di sbocco, che fu il professore di Franco, professore di diritto allora, sia suo che dell'altro mio fratello Giuseppe, che purtroppo è andato pure. Da lì il professore gli dice, senti, io non ti posso salutare su questo campo, però so che a Palermo c'è una delegazione di una grande associazione, ti puoi rivolgere lì. L'anno successivo Francesco Franco si iscrive all'università e va in delegazione, va in delegazione spiegandogli un pochino tutta la situazione del nostro territorio e che voleva fare qualche cosa per noi, per tutti, per tutta la nostra società. Così nell'87 riuscì ad aprire la sezione alligata. Sezione che è andata benissimo, benissimo per un po' di anni, per molti anni. Lui ha fatto molte attività, molte attività per il nostro territorio, ad iniziare dalle denunce perché sono arrivate le prime cementificazioni lungo la costa e quindi lui sentì il bisogno, il bisogno di denunciare queste cose, solo che la procura allora non non gli ha dato retta. Diciamo che la sua vita l'ha costruita da allora, da un momento in poi, l'ha costruita sulla base di dare qualche cosa agli altri, qualche cosa agli altri attraverso l'associazione WUF. Dopo un po' di anni sentì il bisogno di creare qualche cosa per questo territorio, voleva creare un'area protetta, un'area protetta e si era messa in testa che c'erano i terreni della Sarpe allora, un vasto terreno della Sarpe verso Torre di Gaffe, però gli interessi erano troppi e quindi non ha potuto fare niente. Quel bisogno di creare un'area protetta, un'oasi, una riserva, per lui era il massimo. Un giorno tramite amici andò a Siculiana, Siculiana è un territorio ancora integro, fece di tutto, fino a quando il WF Italia non gli ha concesso di comprare, ha comprato il WF Italia, un intervento, diventò direttore di questa riserva. Da lì iniziò il suo cammino, il suo cammino, diciamo, per questa riserva che ci ha lavorato tanto, ha fatto pure la tesi per questa riserva, hanno pubblicato questa tesi, perché è grandissima, 72 ettari, 720 ettari di terreno integro, cosa che magari in Sicilia nella costa militare ce n'è poca. Oggi come oggi tutte le nostre coste sono, diciamo, tutte antropizzate, raramente si trova un corpo come quello di Siculiana. Purtroppo nel 2005 si scoprì la sua malattia, l'epidemia. L'ha combattuta tantissimo, io gli andavo sempre dietro, giustamente, perché è rimasto pure da solo e quindi non lo potevo lasciare da solo. Però nel 2007, nel 15, il 15 di giugno del 2007, lui se ne andò. Ma chi conosce Franco, i suoi ideali ambientalistici, sa chi è e sa che il nostro ambiente naturale siciliano ha perso un pilastro, un qualcuno che poteva fare tanto. Ce n'è pochi, diciamo. Io ho riaperto la sezione di nuovo del WWF, ma sempre per ricordare lui, sperando che l'amministrazione, qualcuno che ci possa aiutare per questa intitolazione della villa, vorremmo intitolare la Villa Messico a lui, grandioso. Ogni anno puntualmente facciamo qualche cosa in memoria sua. L'anno scorso abbiamo liberato una tartaruga, sono intervenuti molti suoi colleghi, venuti da un bel po' di strada, Geromo Cormone, Giuseppe Mazzotta, Salemi, qualche operatore è venuto dalla riserva, per ricordare i valori suoi. Quello che ha fatto in quei 20-25 anni di attività ambientalista, ha fatto molte cose. Grazie.